Quando si augurava un buon 2022 io immagino che questo pomeriggio se lo immaginavo più o meno così. Sì, assolutamente. È stata una buona partita, una risposta alle tante difficoltà che abbiamo avuto e che spero siano state definitivamente superate. La squadra ha risettato e ha giocato in maniera importante perché secondo me ha approcciato la partita con grande autorità, con grande personalità. Su un campo che non era difficile perché era molto morbido e era anche difficile giocare palla a terra. Anche nel finale ci siamo anche, tra virgolette, snaturati, però a dimostrazione che la squadra ha denotato grande maturità e ha concesso pochissimo. Quindi credo che la partita e il risultato sia assolutamente meritato. Questa vittoria ha messo un bel passo in avanti verso la salvezza. Cos'è cambiato in questo vero? Cos'è cambiato? È chiaro che la tranquillità che ci ha infuso negli ultimi momenti, l'altra settimana, è chiaro che ci fa solamente pensare al campo. E questa squadra quando ha pensato al campo ha fatto benissimo anche nel girone d'andata. Oggi abbiamo affrontato una squadra che all'andata ci aveva battuto, ma ci aveva battuto in maniera immeritata. Venitevamo di vincere, quindi siamo andati a riprenderci quei punti che, ahimè, avevamo lasciato, però facendo la prestazione, al Bonolis. Poi è chiaro che oggi in campo eravamo una squadra molto più esperta perché non abbiamo più da fare minutaggio. Nelle situazioni, anche nella partita, quando si è messa veramente un po' la partita, tra virgolette, da ping pong, perché erano tutte palle lanciate sopra la linea, la squadra ha sofferto poco, abbiamo congelato la partita, non abbiamo concesso niente. E questo è chiaro che con i giocatori più esperti è molto più semplice gestire questi tipi di situazioni. Ed è stato anche più semplice, mister, essere un po' più camaleontici, perché si è passati da un 4-3 vero e proprio a un 4-3 un po' spurio, o poi la difesa a 3, questo Teramo che riesce a cambiare anche in corso d'opera il suo modo di stare in campo, probabilmente una risposta ulteriore. Sì, ma come vi ho detto spesso, mi avete sentito dire, noi avevamo sempre lavorato anche la linea 5. È chiaro che dobbiamo avere anche gli interpreti per poterlo fare. Oggi non c'erano più le condizioni per giocare da dietro e quindi Kodromac, Soprano e Pinto, insieme a Mordini e a Ziosmanovic, con Arrigoni davanti alla difesa, è chiaro che sono andati a controbattere le palle lanciate all'interno dell'area con grande consapevolezza. E poi avere, è appena arrivato da Andrea, però oggi secondo me negli ultimi 10 minuti serviva uno da affiancare vicino a Gabriele, perché si era sbattuto in lungo e in largo, aveva fatto una partita estremamente positiva ed era stanco. Quindi affiancargli una punta vera e propria che lo facesse un attimo rifiatare sul loro difensore centrale, magari poteva essere utile su un'eventuale ripartenza. Penso che quando hai le armi a disposizione puoi spararle, se non ce l'hai. Oppure dei ragazzi ancora molto giovani devono apprendere, perché sono o alla prima esperienza nel campionato, oppure sono giovani, quindi devono assimilare magari le idee che noi chiediamo, è chiaro che nei giorni d'andata ha fatto più fatica. Un teramo che è piaciuto il più, anche più compatto sotto l'aspetto difensivo, vero? Sì, sì, assolutamente, ma questa è un po' la partita che noi molto spesso nei giorni d'andata all'inizio avevamo fatto. Eravamo una squadra anche all'inizio che concedeva poco. È chiaro che volendo fare un certo tipo di gioco non puoi prescindere dalle distanze, dall'aiuto reciproco e soprattutto nell'andare a sprigionare aggressività per cercare di coprire la palla. Oggi i ragazzi lo hanno fatto e penso che anche la sosta ci ha permesso di lavorare in maniera importante anche dal punto di vista fisico e abbiamo un po' recuperato le energie che ci hanno permesso di fare questo tipo di partita. Vissere, a proposito di Sigoli, è chiaro che l'autore del gol De Grazia, c'è anche stato Mordini che hai sottolineato te, che ha fatto un'ottima prestazione, però probabilmente siamo in grado anche di vedere qualche giocatore che sta entrando nei meccanismi e faccio un nome come quello di Pierluigi Pinto, che oggi in coppia con Codromaz, coppia inedita, ha fatto una partita di assoluta sostanza e probabilmente l'abbiamo visto molto molto meglio rispetto a quando era arrivato. Sì, tenete in considerazione che Pinto è stato quasi due anni fermo, inattivo, ed è chiaro che necessitava di continuità di allenamento, continuità di minutaggio. Parlate di un ragazzo che io ho cresciuto perché l'ho avuto negli allievi e poi due anni in primavera, quindi io so quello che lui può dare ed è stata anche una scommessa che abbiamo fatto insieme alla società perché volevamo giocarcela, perché se Pierluigi torna quello che era due anni fa è sicuramente un giocatore che può ambire anche a categorie superiori, quindi sta migliorando e vi garantisco che ancora non è nemmeno al 70% di quello che lui riesce a esprimere, ve lo dico senza presunzione ma perché lo conosco molto bene. Però mi piace anche rimarcare il gol di De Grazia perché è stato figlio dell'inserimento e Lorenzo ci ha messo poco a capirlo, si è buttato subito dentro e ha fatto gol, ha fatto gol con il suo piede debole, quindi questo mi fa grande piacere perché vuol dire che il ragazzo si è calato immediatamente nei nostri principi di gioco e l'ha messo subito in campo. Una vittoria per salutare un centinaio di tifosi che hanno seguito anche a gira squadra? No ma questi tifosi ci sono sempre stati vicino e anche nelle sconfitte, anche quando eravamo da fischiare perché avevamo fatto delle bruttissime prestazioni, ci hanno sempre incitato fino al novantesimo, cioè i ragazzi che sostengono questi chilometri, questi sacrifici ci sono stati vicini, io li porterò veramente sempre dentro al cuore, perché loro ci hanno sempre incitato sia quando facevamo bene ma anche quando facevamo male e penso che da loro in tanti dovrebbero imparare cosa vuol dire amare il terra.